Buonanotte a tutti tranne, le seguenti persone non riceveranno le buonanotte questa sera Buonanotte a tutti tranne, chi guarda questo video in compagnia, chi oggi si è messo la crema a mani Aspetta, io non so, cioè, si sono in compagnia vostra ma sono da solo qui Chi odia i gatti Allora, non mi sono messo la crema alle mani, non è che odio i gatti, quelli di TT2 mi stanno sul f... Solo quelli Buonanotte a tutti tranne, chi ha lo schermo del telefono rotto? No Chi nell'avvio di un social ha almeno una delle seguenti emoji? No, zero Chi possiede una pianta con un nome proprio? Non ho una pianta Buonanotte a tutti tranne, chi si chiama Fabio o Alessia e la propria laurea ha indossato un completo di colore blu Tutti lo indossano blu, questa cosa è verissima Chi ha due fratelli maggiori e una sorella minore? No, cioè, ne ho due sorelle minori, quindi no Chi nell'app salute ha segnati meno di 5.000 passi? Aspetta Ehi Aspetta Ti stupirò Sono andato oggi allo stadio, godo Ho fatto quasi 6.000 passi E ho dormito ben 6 ore e 42 ieri Un record Stavo male, ho vomitato tutto il tempo Tutti tranne, chi mercoledì ha cenato al sushi all you can eat No, no E ha avanzato 3 uramaki e un gyoza Che ha cercato di nascondere in un fazzoletto Dentro una borsa Basta semplicemente che voi rompete un bicchiere di vetro E lo piazzate tutto dentro al sushi Il bicchiere si è rotto Cameriere, si è rotto il mio bicchiere Non posso, questo sushi è inagibile Non lo posso mangiare Come cavolo faccio Stavo camminando Ok, sono vestita normalissima Sono sicuro che qualcuno ti ha detto Sei bellissima E mi fermano questi due Con il motorino E mi dico No, mi dai l'instagram Quindi ho detto Domani mattina te lo do Tipo così ridendo Il semaforo si fa verde Lui riparte Raga, mi ha sputato Cioè Uh Io scioccata Sì, scioccata Non contenti Ho fatto il giro Io intanto ho attraversato la strada E mi ha sputato di nuovo No, vabbè Io senza parole Mia moglie Dai, entri E poi Perché? Corre Alquist Quasi 60 metri Palla al piede C'è il contrasto Spalla a spalla Regolare per Massimi Conteo Hernandez Che si riprende il pallone Intanto Alquist è rimasto a terra E il Milan frena Forse ha preso Poi Sulla testa Adli Profondo da Leao Che torna ad accendersi Leao Leao Ma che cazzo Gol convalidato al Milan Con un fallo non fischiato Da Rosso Diretto Ripubblicato da Pancarrè Non so se lo vedete Azzotti Andate a casa A fare porcheria No Lasciutizzo al sogno Azzotti Se non vi piace Lui è forte Non sono io ragazzi Basta dire che sono quella D'Angela Manco Ma vedete se è figa che è Mi hanno hackerato Netflix Niente da aggiungere Apri Subito C'hai 10 secondi La nuova maglia della Roma Fammi indovinare Ma manca lo sponsor Perché mi esce il cast Dell'isola dei famosi Con sotto Due pequegno Facciamo un Lo conosco Non lo conosco Lo conosco Un euro scusa Dai per favore Ma non è te Ma l'è Ti ho visto Non sei iscritto ancora al canale E non provare a skipparmi Devi iscriverti E ricordati Di bere 10 litri d'acqua al giorno Così muo E io godo Uno E' il tiki Dos E miau miau L'azza L'azza è il cantante Chi di voi Sta vedendo La nuova Stagione di lol Io no No nessuno Ah ok Io l'ho guardato I primi 4 episodi Lo sapete No 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 Non mi piace Questo del rosso Era più carino L'altro spoiler Allora se non altro C'è da pc I per te Fanno più cacare Però se poi devo andare a vedere Quelli dove mi taggate E' più comodo da pc Ovviamente Vabbè che cazzo ci vuole In sette parti Vabbè chill Allora Ho sbagliato No la devo rifare Come si rifà Dai Dai No si sta Ok Chill 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 No No l'avevo fatto Dai Era giusto Mi sa così Raga Aspetti 10 minuti Madonna Sono un po' tanti Ok lo riprovo L'ultima volta Basta Poi La mia intelligenza Mi sa che non Non è abbastanza Per questo Ok chill 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 Allora Eh eh E' giusto 3 4 5 6 7 Easy Questo si può postare Ragazzi Ok voglio postarlo Raga Ma che cazzo Ma che cazzo Vabbè No no Ecco perché Non faccio tiktok Fica lei Saluta Romics Come lo saluterebbe Il personaggio Più famoso Che doppiato Tanti saluti a tutti Con crema Mirtilli E cioccolato What Chat Ciao ciao Romics Sono io Topolino Ci vediamo presto Cioè quindi Timmy Turner È doppiato da una donna E lo faremo a pecora Pure stasera Poi mi sprada un coaglione Arriverò in fretta Sushi dal Carrefour A 11.95 Se gli date Più di 7 Te lo giuro 20 grammi Non è vecchio Di condimento Ce n'è molto Efficiente Con carisma Marina imperiale giapponese Il dovere è più pesante Delle montagne Ma la morte È più leggera Di una piuma 8.5 Ma andate a cagare Ecco Con quest'anno proprio Appurato Appurato Che non ne capiscono Un cazzo Ragazzi I sushi Del supermercato Sono quanto di più Immangiabile Fanno vomitare Io non vieterei mai Alla mia ragazza Di andare in discoteca Cioè Alla fine C'hai 30 anni Jessica Fai che cazzo ti pare Vuoi tradirmi Tradiscimi Tradiscimi Vai in discoteca Tradiscimi con Gianluca Alto 1.90 Che gioca In serie di Umbra Fai quello che ti pare Jessica ma tu Un uomo come me Così attraente Pensieroso Misterioso Che va al mare D'inverno E lo fissa Cioè il mare Sto fissando il mare E lui guarda me Perché io non sono unico Jessica Non sono uno dei tanti Eh Hai capito? Beh ragazzi Jessica Ci ha le sue ragioni Lo tradisce sempre Se non fai almeno 4 su 5 Doversi tornare a scuola Nel chill Qual è la capitale Dell'Australia? Ah Oh no Non è Sydney Raga Non è Sydney Come si chiama? Dai Perché mi viene in mente Barberry Vabbè Dai quella lì Dai Canberra Ah Canberra Ha scoperto la forza di gravità Newton Is Isaac Newton Isaac Newton Ok Quale paese è conosciuto Come la terra del sol levante? Eeeh La C Il Giappone Il Giappone In che anno affondo il Titanic? 1912 Nel 1912 Qual è l'uccello più grande del mondo? Il mio No l'aquila penso Lo struzzo Ah no lo struzzo Se non fai almeno 4 su 5 Vabbè dai Ci sta Madonna tesla 142 milioni 752 mila 342 Ascolti Ascolti Dai prova bene dai Buonanotte a tutti tranne Le seguenti persone non riceveranno la buonanotte questa sera Buonanotte a tutti tranne Chi vede questo video in bagno No Chi ora non indossa i calzini E chi nel letto All my sunshine My only sunshine You make me happy You'll never know La che cia Amici Oddio Bec to bec Il Fabrizione Amici Stavanzo non forma Questi 9 kg di Kobe Sotto forma di noce Bello Sotto forma di noce Fa venire sempre fame il Fabrizione Question number one Name a celebrity With the first name Robert Robert Lewandowski I'm gonna say Robert Duval If you said it Sorry you're out No Non devo dire la stessa cosa From the week Un giorno della settimana Così su due piedi Mercoledì Wednesday I'm gonna go with Tuesday If you said Tuesday Get out of here Pick a number between two and seven 3 Imagine picking three If you pick three Unlucky my boy Question number four Name any state in the United States Washington I'm gonna go with North Carolina Name me any Marvel superhero Blue Marvel My answer is Black Panther Who is the first person that pops up when you tap on Cher Then more Ho paura Gianmarco Tocco I'm gonna guess your dad Question number one No non è mio padre Oddio E allora Bellocci Il miglior venerdì sera A tutti Io È una mammi che Con quella coscia Di fuori Mi fa venire voglia Di un bel rodeo Lui quando mi esce nei per te Mi fa troppo ridere ogni volta Il miglior venerdì sera Lui fa tutti i video così Allora Bellocci Io È una mammi che È la mia felicità Qua è andato soft Vediamo altre cose Di là in preparazione Una mammi che È la star Del mio venerdì sera Ok È una mammi che Se avesse l'etichetta Sarebbe Barbie È il miglior venerdì sera Che cazzo Ma che cazzo va a dire Mentre Michael scorazza in creativa su Minecraft Attendiamo una mammi che Con questo spacco questa sera È davvero un invito per la mia mente A far cose che qui Davvero non si possono dire Ovvio Presa la pillola magica Io devo capire cos'è questa pillola magica Io È una mammi che È la mia Jessica Rabbit Anche questa sera Io È una mammi che Pure in abito lungo Mi apre le coronarie Presa Zalele Figlio Bon figlio Bon figlio Vabbè GAAA Oddio se si ascolta Sfera e basta I commenti saranno Tipo tutti Eh ma Ti picchi arti five No Strano Strano He clearly does not want to be awake right now Ehm Ok No raga Allora già mi fanno ridere le scorreggie Poi questo è qui Usciresti a indovinare questi loghi per auto? Vai Mettiti alla prova Dai Andiamo con il primo Ford Ford Renault Renault Fiat Fiat Audi Audi Hyundai Honda No questo è Hyundai Cazzo L'altro di prima era Honda Hyundai Delta Lexus E che ho detto io? Porsche Porsche Ok Mazda Mazda No raga scusatemi Io lo vedo da un bel po' di settimane Questo trend Ma è così difficile Che ci vuole? Porco dio No non ci vuole un cazzo secondo me È una stronzata raga Kill Ma alcuni non li prende Alcuni non li prende Alcuni non li prende i tap Arco dio Oh madonna Non li prende Non li prende Non li prende Non li prende Non prende dei tap Sto premendo Bro sto premendo No 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 Puttana Giustukaisen di merda Fa schifo Non voglio chiederti di sistemarmi prima Kyla Io ti metto un cazzone Veramente Nell'occhio E inizio a bucherellare Non è bello Mi fa troppo ridere il canguro che imbruttisce Giovane tag Ma no me la ricordo questa Raga ma è vecchissima Era tipo il napoletano che gli aveva venduto l'orologio finto Ho combattuto il disello Sborrandomi addosso Il cargatore è 65 watt Supercarga rapida Però Escucha il sonido che hace Quando desinciuffas il cable Es che Non suona bene Io lo escucho Non suona bene Mi fanno ridere Me ne scorreggio Non ci posso fare niente Ma c'è la riesco a trovare quella del giovane tag Il mio Il mio nome di vita reale Giovane tag mi chiama Ma tu come ti chiami di nome Razzaro? Minchia King King orientale è il tuo nome? Giovane tag è il mio nome No però non è completa Dove dice Il mio nome di vita reale Ma tu come ti chiami di nome Razzaro? Eh minchia King King orientale è il tuo nome? Giovane tag è il mio nome Il tuo nome Cioè quello Quello real Il mio nome di vita Il mio nome di vita reale Il mio nome di vita reale Io mi chiamo Giorgio Questa presa di coscienza dopo che dice il nome Di vita reale Lascia like e lascia un commento Se no ti arriva un destro sotto il mento Reactions e gaming Puoi trovare di tutto Non troverai mai un edit brutto